Il problema è che nessuno più legge, ci sono dei dati al riguardo e nessuno più legge, quindi probabilmente bisognerà concentrarsi più sulla lettura nei dispositivi immobili, quali telefoni cellulari o ebook, e-pub, formati di questo genere, per poter invoiare alla lettura. Ormai il cartaceo sta svanendo e si spera che il digitale possa sostituirlo, perché essendo anche appassionata di scrittura qualcuno dovrà leggere quello che scrivo.